L'amministrazione comunale di Montecorvino Rovella ha intensificato i controlli per reprimere il fenomeno dell'abbandono di rifiuti ingombranti e non sul territorio. L'attività proseguirà senza sosta nelle prossime settimane, come annunciato dal vice sindaco e assessore all'ambiente Corrado Volpicelli, che nella mattinata di ieri, con l'ausilio degli uomini della polizia locale, ha verificato in prima persona la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto. Nei giorni a venire, spiega Volpicelli, ci doteremo di una telecamera civetta.